Se la tredicesima edizione della Fiera del Carciofo di Trinitapoli si è confermata ancora una volta a una vetrina tra le più prestigiose del Sud Italia per tutti gli amanti della gastronomia di qualità, il merito è anche di chi ha fatto del prodotto più amato dell'agricoltura o fantina un vero e proprio marchio di fabbrica. Tra i numerosi stand della manifestazione andata in scena lo scorso weekend c'erano infatti le aziende agroalimentari più importanti del territorio, imprenditori che investono sulla genuinità del prodotto finale e riescono ad essere competitivi sui mercati nazionali ed esteri. Il prodotto carciofo o quello che io coltivo, prettamente carciofo, è il prodotto che ho più a cuore, dove io ci spreco più tempo. È buono, genuino e trattato sanamente come Dio comanda, non con prodotti pesticidi non validi che non sono a norma in Italia. La gente è molto contenta, ogni anno che viene ci elogia di tutto quello che noi facciamo e spero che cresceremo sempre di più perché vedo che si accalca la gente e piace molto questo modo di esprimerci come gastronomia Trinitabolisse. Il tredicesimo appuntamento con la Sagra del Carciofo si rivela l'edizione dei record per numero di stand e visitatori. Merito dell'Associazione Soccorritori Casal Trinità, sottolinea il sindaco di Feo, i cui volontari si impegnano ogni anno ad organizzare un'eccezionale vetrina per i nostri prodotti enogastronomici, regalando anche momenti di svago e spensieratezza attraverso spettacoli e concerti di grande qualità. Riescono a mettere su un'organizzazione direi impeccabile, sia sotto il profilo appunto degli stand, sia per quanto concerne la fornitura dei pasti, ma poi anche per gli spettacoli. Ci sono stati degli spettacoli dove la gente stava lì a guardare a bocca aperta ad ammirare momenti bellissimi, sia per i piccoli sia per gli adulti. Anche il nostro momento istituzionale con tutti gli onorevoli consigli regionali, provinciali che sono tutti rimasti entusiasti di questa meravigliosa organizzazione. Mi corre l'obbligo appunto di ringraziare loro e poi gli imprenditori, tutti coloro i quali, imprenditori, io li chiamo ormai mecenati, che sponsorizzano una serie indefinita di iniziative durante tutto l'anno, ma che in questa occasione anche qui danno il massimo per mettere in vetrina non solo il nostro prodotto tipico, i carciofi in testa, ma noi abbiamo il nostro vino, il nostro lino, ma riescono anche a far sì che si possa dimostrare che l'agricoltura a Trinitapoli è viva e che nel nostro bacino forse è Trinitapoli veramente la punta di diamante per poter rilanciare un'intera economia dell'agricoltura, non soltanto in Puglia, non soltanto in Italia, ma anche all'estero.